bentornati sul canale della fata tutto fare oggi andiamo a realizzare insieme uno splendido maglioncino dalle sfumature davvero delicatissime e il filato che ha reso possibile questo effetto il filato cliff la sfumatura è quella del lilla 50 grammi il gomitolo 120 i metri disponibili che lavoreremo con l'uncinetto del 5 vi occorreranno forbici una goda lana e alcuni marca punti partiamo avviamo il nostro progetto che verrà lavorato a pannelli quindi realizzeremo prima il pannello posteriore e poi lavoreremo il pannello anteriore il punto di lavorazione ve lo scrivo in alto è un multiplo di 4 più 1 quindi per avere un pannello di circa 48 centimetri sono andata a caricare un totale di 72 catenelle più una quindi 73 catenelle il multiplo e 4 più 1 ricordiamolo quindi se variate il filato decidete di farlo più grande o più piccolo bisogna aggiungere di 4 in 4 le maglie quindi io carico 73 catenelle una volta realizzate le 73 catenelle ne aggiungo una per poter eseguire la prima maglia alta quindi rientro nella maglia precedente che è la numero 73 eseguo la maglia bassa con 2 catenelle e adesso punto su punto vado ad eseguire le maglie alte quindi faccio il ritorno a punto alto lavorando un punto per ognuna delle catenelle sottostanti una volta eseguito il ritorno a punto alto ci andiamo ad alzare con una catenella di 3 maglie e voltiamo il lavoro adesso praticamente andiamo a realizzare una sorta di elastico e lo facciamo con due giri totali andiamo praticamente ad alternarci con delle maglie a rilievo davanti alternate a delle maglie a rilievo dietro quindi fatta la prima maglia alta vado a sollevare la prima barretta quindi prendo il filo sull'uncinetto sollevo la barretta in questo modo avvicinandola a me faccio passare il filo sotto ed eseguo la maglia alta e faccio la stessa cosa nel punto seguente sollevo la barretta ed eseguo il punto alto nelle due maglie alte successive faccio il contrario cioè prendo il filo sull'uncinetto ma lo stesso lavoro lo faccio nella parte posteriore quindi prendo il punto a rilievo dietro quindi entro posteriormente passo attraverso la barretta che viene sollevata nella parte posteriore ed eseguo il punto alto di nuovo lo ripeto prendo il filo sull'uncinetto entro a cavallo la maglia faccio passare il filo e faccio mio punto alto di nuovo una volta fatte le due maglie a rilievo dietro nelle due successive rifaccio le due a rilievo davanti quindi una e due due a rilievo dietro e in questo modo andiamo a lavorare tutte le maglie alte disponibili dopo aver alternato le due maglie a rilievo davanti con le due maglie a rilievo dietro andiamo a chiudere quel punto alto così come abbiamo cominciato e andiamo a voltare il lavoro sempre facendo una catenella di 3 a questo punto andiamo a fare il contrario di quello che abbiamo quindi quando trovo la maglia che da questo lato è rilievo dietro ma adesso diventa rilievo davanti la lavoro così come si presenta cioè a rilievo davanti quando trovo le maglie a rilievo dietro le lavoro a rilievo dietro ok adesso una volta girato il lavoro quello che era rilievo davanti diventa rilievo dietro e viceversa no quindi le lavoro come si presentano quindi queste rilievo dietro la successiva anche vedete sono le due a rilievo dietro quindi passo dietro con l'uncinetto e lavoro il mio punto alto queste che erano a rilievo dietro sono diventate rilievo davanti girando il lavoro e per tali le lavoro vedete una e due e poi di nuovo vado a prendere le successive due a rilievo dietro una e due quindi queste le prendo a rilievo davanti e in questo modo procedo quindi finisco la riga alternando sempre due maglie a rilievo dietro a due maglie a rilievo davanti in questo modo come vedete formiamo una sorta di elastico che andrà a rappresentare la parte inferiore dei nostri pannelli a questo punto possiamo avviare la prima riga di lavorazione come vi dicevo il nostro motivo si sviluppa in due righe la riga numero uno quella che ci apprestiamo a fare adesso e la riga numero due fatta la catenella di avvio che corrisponde alla prima maglia alta vado ad eseguire altre tre maglie in questo modo 4 maglie consecutive che avrò in apertura e chiusura aggiungo la catenella di separazione salto un punto che quindi corrisponde alla catenella e vado a lavorare tre punti alti consecutivi 1 2 e 3 aggiungo di nuovo la catenella salto un punto di base e di nuovo lavoro tre maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione quindi come vedete a parte l'avvio che si deve aprire con 4 per il resto del lavoro dobbiamo andare ad alternare tre punti alti e una catenella alla catenella si fa corrispondere un punto di base saltato e si procede lavorando le successive tre maglie alte per questo vi dicevo che il multiplo è di 4 e procedo in questo modo lavorando quindi tre punti alti e una catenella di separazione per tutta la riga arrivati alla fine della riga dopo aver eseguito le ultime tre maglie alte faccio la catenella salto un punto vi restano giusti giuste quattro maglie alte quindi apriamo chiudiamo con quattro maglie per il resto facciamo tre punti alti e una catenella questa è la quarta maglia alta e abbiamo completato la riga numero 1 passiamo adesso alla riga numero 2 per eseguire la riga numero 2 ci avviamo con tre catenelle voltiamo il lavoro adesso avete il gruppo praticamente di tre maglie alte ecco perché ci si avvia con quattro perché poi bisogna lavorare sempre con le tre maglie andiamo nella centrale quindi nella seconda e andiamo a fare tre maglie alte non chiuse chiuse insieme in questo modo quindi entro nel punto lavoro il punto alto estraendo soltanto le prime due asole e lascio un'asola sull'uncinetto lo ripeto per un'altra volta quindi metà punto alto asola sull'uncinetto e le asole sono due di nuovo per la terza volta a questo punto avete tre maglie non chiuse che chiudiamo insieme faccio tre catenelle di separazione e nello stesso punto di base ripeto nuovamente le tre maglie alte non chiuse 1 2 3 che poi chiudo insieme e vengono fuori questi ventaglietti ok questo va ripetuto in ogni blocco di tre maglie sempre entrando nella centrale quindi una 2 e 3 maglie alte non chiuse che poi chiudo insieme aggiungo una 2 e 3 catenelle di separazione rientro nello stesso punto di nuovo lavoro 3 maglie alte non chiuse le chiudo insieme non c'è bisogno di fare alcuna catenella di separazione si passa direttamente con il gettato nella maglia successiva quindi nel blocco delle tre maglie alte si lavora in quella al centro quindi sono tre maglie alte chiuse insieme 3 catenelle di separazione 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 e 3 questo è l'effetto che andiamo a dare concludo la mia riga con un punto alto così come l'ho avviata e quindi anche la riga numero 2 è pronta a questo punto andiamo a ripetere la numero 1 quindi come vi dicevo queste due righe si alterneranno per tutta l'altezza del pannello che nel mio caso sarà di circa 55 56 centimetri riavviamo la riga numero 1 facendo sempre la catenella di 3 e andando a lavorare i gruppi di 3 maglie alte che andranno lavorati nello spazio delle catenelle quindi non faccio altro che entrare nello spazio delle catenelle lavorare 3 maglie alte 1 2 3 la catenella di separazione che mettevamo anche sotto saltando un punto di base quindi rientro nell'archetto formato dalle 3 catenelle ed eseguo 3 maglie alte di nuovo la catenella di separazione vado nell'archetto successivo ripeto 3 maglie alte quindi per tutta la riga vado ad alternare 3 maglie alte e una catenella di separazione la facilità del punto sta proprio nell'inserimento perché avviene nell'archetto che si viene a creare una volta che avrete completato la riga numero 1 tornerete a lavorare la riga numero 2 questo significa che nella maglia centrale del blocco dei tre lavorerete questi gruppi di 3 maglie alte che vanno chiusi insieme e che sono separati da 3 catenelle alternerete in questo modo la riga numero 1 e la riga numero 2 per ottenere entrambi i pannelli questo dunque è il mio pannello dopo aver eseguito una serie di righe questa parte inferiore che vedete più tridimensionale la parte della molla dove abbiamo alternato le maglie a rilievo davanti con le maglie a rilievo dietro per tutto il resto della lavorazione del pannello ci sono la riga 1 e la riga 2 alternate io per le 73 catenelle che ho avviato ho una larghezza del pannello di 48 centimetri ed un'altezza di 56 io ho già posizionato intanto una serie di marca punti che vi spiegherò poi in un secondo momento a cosa serviranno li ho posizionati in alto e li ho posizionati lateralmente intanto per indicare quello che sarà lo scalfo delle maniche e in alto per indicare la scollatura adesso questo che abbiamo realizzato in realtà è il pannello posteriore adesso riprendendo di nuovo il filato e l'uncinetto andremo a realizzare un altro pannello uguale questo significa che vado a ricominciare con 73 catenelle quindi sempre con il multiplo di 4 più 1 quindi le catenelle che avete avviato per il primo pannello serviranno anche per il secondo e andrò ad eseguire una serie di righe mi fermerò praticamente quando raggiungo lo scalfo della manica io intanto ho sollevato anche il secondo pannello con lo stesso avvio del precedente mi sono fermata come vi avevo detto proprio all'altezza dei marca punti che segnano lo scalfo della manica adesso metto da parte questo pannello che continueremo insieme tra un attimo per spiegarvi attraverso il primo cosa dobbiamo andare a fare allora come vi dicevo io mi sono sollevata per un totale di 55 56 centimetri e ho individuato già l'altezza dello scalfo maniche per quanto concerne lo scalfo maniche voglio darvi delle indicazioni un pochino più precise che vi segno in alto quindi lo scalfo è praticamente lo spazio che c'è tra il bordo superiore e questo primo marca punti in questo caso io ho lasciato uno scalfo tra i 17 e i 18 centimetri normalmente uno scalfo donna va dai 16 ai 20 quindi tenete presente questa suddivisione perché comunque vi può tornare utile e quindi ho messo questi marca punti quindi se siete una taglia più piccola li mettete più su se siete una taglia più grande li mettete più giù ok tanto cambierà soltanto il numero di punti per fare la cucitura niente di che a questo punto però noterete altri quattro marca punti allora io ho fatto questa suddivisione su questo pannello in realtà poi lavoro lo facciamo sull'altro praticamente cosa ho fatto con i marca punti ho segnato innanzitutto il centro che è questo qui e ho segnato praticamente uno scalfo di 22 uno scavo di 22 centimetri lasciando quindi 13 14 sui lati ok poi ne ho sistemato un altro qui in basso che questo rosa che mi indica il punto in cui devo cominciare a modificare il mio lavoro che continuerà in righe di andate e ritorno ma facendo in modo di lavorare queste due metà distintamente in modo da poter creare uno scavo triangolare quindi rispetto al punto in cui ho sistemato il marker devo lavorare ancora una due e tre righe quindi lo farò su questo pannello in modo che poi posso arrivando a questo punto cominciare a fare il mio scavo lateralmente ho sistemato un marca punti in corrispondenza dello scalfo dell'altro pannello e come vi dicevo sono andata a realizzare una due e tre righe nella riga numero tre della nostra lavorazione quando alterniamo tre maglie alte con la catenella ci dobbiamo fermare a metà del pannello nel mio caso posso contare una due tre quattro cinque sei sette otto e nove gruppi di tre maglie alte per poter realizzare lo scollo a v le due parti dovranno essere lavorate separatamente quindi prima vado a realizzare una metà e poi ripunto l'uncinetto e mi vado a lavorare nello stesso modo l'altra metà quindi una volta realizzate queste nove e questi nove gruppi di tre maglie alte vado a girare il lavoro e quindi a cominciare le mie riduzioni per poter creare nel triangolo che avevo indicato nel primo pannello questo tipo di scavo e vado praticamente a saltare tutto il blocco delle tre maglie alte qui sopra non lavoro niente perché se lavorassi qui direttamente il motivo andrei su dritta invece cosa faccio nel momento in cui ho lavorato l'ultimo punto vado nel secondo e lavoro un punto bassissimo quindi vedete mi trovo qui vado direttamente nel secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo prendo il filo sull'uncinetto vado nel terzo punto lavoro una maglia alta e quindi vado a ricominciare il mio motivo quindi vado a fare il gruppo di tre maglie alte chiuse insieme 3 catenelle di separazione di nuovo tre maglie alte chiuse insieme nello spazio dello stesso punto di base che è sempre la seconda maglia alta del gruppo di tre sottostanti vedete quindi ho praticamente saltato il lavoro sul primo blocco e quindi già ho un taglio diagonale quindi procedo lavorando come di consueto questo motivo per tutta la riga e torno indietro volto nuovamente il lavoro dopo aver eseguito tre catenelle e ricomincio la riga ovviamente la riduzione andrà a riguardare solo la parte centrale quindi il laterale da quest'altra parte viene fatto sempre nello stesso modo quindi dopo le tre catenelle riavvio normalmente le mie tre maglie alte una due tre catenella di separazione e ricomincio nuovamente lavorando le tre maglie alte fino ad eseguire tutta la riga tornando indietro mi fermo nell'ultimo punto dove posso lavorare c'è fin dove trovo l'archetto delle tre catenelle lavoro le mie tre maglie alte come ho fatto per la riga sottostante vado a girare il lavoro rientro con un punto bassissimo sulla seconda e poi ricomincio la riga numero due del mio motivo quindi volto il lavoro in questa maniera dal punto in cui mi trovo vado ad entrare direttamente sulla seconda maglia alta facendo un punto bassissimo prendo il filo sull'uncinetto e nella maglia successiva che la terza maglia alta faccio un punto alto vedete in questo modo si forma la diagonale quindi ricomincio semplicemente andando sulla maglia centrale del blocco successivo e ricominciando a lavorare il gruppo di tre maglie alte chiuse insieme chiaramente il numero di giri da fare dal momento in cui cominciamo la suddivisione dei due pannelli si regola sul primo quindi dal punto in cui ho inserito il marker che questo qui quindi questo è il punto in cui ho cominciato ho una due tre quattro cinque sei e sette righe di lavorazione vedete il taglio della nostra scollatura che è sempre più inclinato e adesso facciamo di nuovo la riduzione che viene fatta sempre nello stesso modo quindi lo facciamo per l'ultima volta sapendo che il tutto si dovrà completare in sette righe di lavorazione poi riaviamo insieme il secondo pannello che viene lavorato identico al primo ma lo ricominciamo per precisione per correttezza così il principio è sempre quello di fare la riduzione al centro di lasciare comunque laterale intatto quindi la procedura è sempre alla medesima si rientra nella seconda maglia alta facendo la riduzione e poi si prende il filo sull'uncinetto si va nella maglia successiva si lavora un punto alto che ci permette di rialzarci e poter lavorare la riga numero due del nostro motivo abbiamo lavorato una due tre quattro cinque sei mi manca una riga e poi avrò terminato praticamente il mio lavoro quindi ripeto l'altezza dei due pannelli deve essere uguale quindi questo lavoro l'ho calcolato nello spazio di questo triangolo come vi ho fatto vedere per una profondità di 15 centimetri a questo punto nello stesso modo dobbiamo riavviare l'altra partendo dal laterale in questa maniera quando arriviamo qua siamo facilitati a girare quindi riusciamo a dare lo stesso motivo anche al secondo triangolo ricomincio sul punto alto lavorando a mia volta un punto alto quindi tre catenelle e quindi vado a ricominciare il blocco di tre maglie alte separata da una catenella e lavoro naturalmente questa sequenza fino all'ultimo archetto disponibile sono arrivata nello spazio dell'ultimo archetto dopodiché comincia l'altro pannellino non posso andare avanti quindi giro ricomincio la mia lavorazione inserendo anche le diminuzioni quindi dopo aver fatto l'ultima maglia alta volto il mio lavoro e come ho fatto per il precedente facciamo soltanto questa riga perché poi il resto ovviamente tutto uguale cosa facciamo inseriamo l'uncinetto nella maglia numero 2 facendo un punto bassissimo filo sull'uncinetto entriamo nella maglia numero 3 e andiamo ad eseguire un punto alto e poi ricominciamo la riga numero 2 del nostro lavoro cioè i gruppi di maglie alte chiusi insieme quindi come abbiamo eseguito il primo andremo ad eseguire il secondo una volta realizzato lo scollo a v quindi fatto il nostro lavoro andiamo ad appoggiare il pannello anteriore su quello posteriore ricorderete che intanto avevamo sistemato dei marcapunti il laterale ad indicare lo scalfo quelli in alto ad indicare lo scavo del collo adesso vado a sovrapporre i pannelli tenendo i dritti tra di loro e avendo i diciamo il rovescio rivolto verso di voi in questo modo fatte le cuciture andando a rovesciare il capo avremo il dritto quindi i dritti si guardano i rovesci verso di voi tolto il marcapunti vado a bloccare il mio filo che avevo appunto lasciato per poter eseguire la cucitura e punto su punto mi vado a fare la cucitura sulla spalla vi ricordo che siamo sul rovescio del lavoro quindi andiamo sul laterale e andiamo ad eseguire la cucitura io faccio passare due volte il filo nello stesso punto tolgo a questo punto il marker che non mi serve più e quindi faccio un nodino con le due codine del filo anche due poi questo filo lo facciamo ripassare nella trama del lavoro così come abbiamo fatto adesso sulla spalla e quindi andiamo a procedere questa cucitura mi avviso è più semplice con l'ago che con l'uncinetto ma avete facoltà di farlo in entrambi i modi a seconda di come vi trovate più comode fatto questo passaggio andremo a realizzare le maniche come sempre io ne realizzo una prima e poi la seconda la facciamo insieme realizzata una manica che come vedete rispetta il punto utilizzato anche nei pannelli quindi la texture complessiva sarà molto molto uniforme le righe di lavorazione sono 20 per quanto concerne la parte del motivo e poi ho inserito una due tre quattro e cinque righe per quanto concerne la parte del polsino riaviamo adesso la seconda manica insieme innanzitutto ricarichiamo una catenella sull'uncinetto poi prendo il mio lavoro allora avendo lavorato il pannello verticalmente ho i punti alti in verticale ma io devo ricominciare in questa direzione quindi cosa faccio ricorderete la prima riga di lavorazione alternava tre punti alti con una catenella quindi adesso faremo lo stesso lavoro prendendo in orizzontale i nostri punti dovete tener presente che ogni punto alto è un po' come se corrispondesse a due catenelle quindi ogni due punti alti facciamo un motivo cioè tre punti alti e una catenella vi faccio vedere in che modo quindi entro nel primo spazio che è questo uno qualsiasi perché insomma è indifferente la chiusura dei giri non si vede e vado ad eseguire tre catenelle per fare la prima maglia alta e poi un'altra maglia alta nello stesso spazio quindi come vi dicevo è un po' come se la maglia alta corrispondesse a due catenelle ci lavoriamo due maglie alte nella maglia alta successiva quindi in questo spazio io entro e lavoro comunque una maglia alta poi faccio la catenella ok che corrispondeva ad uno spazio saltato se ricordate sull'avvio del lavoro quindi vado automaticamente nella maglia alta successiva cioè in questo spazio lavoro due maglie alte una e due poi vado nello spazio successivo lavoro una maglia alta e una catenella cioè lavoro due maglie per ogni maglia di traverso questo è il principio vedete questo è lo spazio lavoro due maglie alte una e due per rispettare la sequenza di tre punti e una catenella vorrà dire che nella maglia successiva devo fare un solo punto alto e una catenella vedete in questo modo procedo fatte le ultime tre maglie alte e la catenella ci andiamo a riagganciare alla prima maglia eseguita e la riga numero uno è terminata quindi come potete vedere continuiamo ad avere l'intervallo di tre maglie e una catenella quindi è semplicissimo riavviare il lavoro perché basterà entrare nella maglia numero due e quindi eseguire due catenelle entrare nella maglia eseguire un'altra maglia non chiusa e la terza maglia non chiusa e riavviare così la riga numero due del nostro motivo tre catenelle di separazione nuovamente tre maglie alte non chiuse una due e tre in questa maniera andiamo a procedere quindi andiamo nella seconda maglia alta del blocco successivo ripetiamo di nuovo le nostre tre maglie tre catenelle di separazione e ricominciamo terminata la riga ci andremo a chiudere sulla prima maglia eseguita con un punto bassissimo e quindi anche questa sequenza è rispettata abbiamo la riga numero due adesso per riavviare la riga numero uno che come ricorderete si tratta di lavorare un'alternanza di tre maglie alte una catenella le tre maglie alte vengono lavorate nello spazio delle catenelle in questo archetto quindi vado ad entrare con una maglia bassissima nell'archetto ricomincio con la catenella di tre maglie che corrisponde alla mia prima maglia alta e quindi ricomincio lavorando tre maglie alte catenella di separazione vado nel ventaglio successivo nell'archetto successivo lavoro di nuovo tre maglie alte una due tre ed eseguo la catenella di separazione quindi l'unico accorgimento facendo la chiusura del giro praticamente sulla prima maglia disponibile è quello di accavallare con un punto bassissimo fino ad arrivare nello spazio dell'archetto in questo modo possiamo riavviare la riga numero uno la riga numero uno e la riga numero due si andranno ad alternare per un totale di 20 righe questa è la manica dopo aver eseguito 20 giri la lunghezza in questo momento è di 38 centimetri quando avremo inserito anche il polzino arriveremo ad un totale di 45 per lo meno per la mia altezza va bene poi ovviamente prima di fare il polzino che è di pochi centimetri misurate e verificate che questi 38 centimetri o 20 righe siano corrette anche per voi vado a ricominciare con delle riduzioni quindi mi trovo nel giro dove dovrei fare tre maglie alte una catenella entro comunque nell'archetto con un punto bassissimo ma di maglie alte ne faccio solo due una e due e vado nell'archetto successivo quindi di mezzo praticamente il numero di maglie tolgo una maglia alta e tolgo la catenella di separazione in questo modo filo sull'uncinetto vado nell'archetto successivo entro lavoro una prima maglia alta una seconda maglia alta in questo modo abbiamo già le maglie divise di due in due e quindi sarà più semplice prenderle a rilievo davanti e a rilievo dietro completato il giro vado a chiudermi con un punto bassissimo e ricomincio sempre con la catenella a questo punto vado a prendere la prima maglia a rilievo davanti la seconda lo stesso a rilievo davanti e sono due come abbiamo fatto per l'elastico iniziale le altre due le prendo a rilievo dietro quindi filo sull'uncinetto passo dietro sollevo la barretta nella parte posteriore ed eseguo la prima maglia faccio la stessa cosa nella successiva una e due quindi maglia a rilievo davanti una due nelle due successive vado a prendere invece la maglia a rilievo dietro quindi filo sull'uncinetto entro lavoro la prima lavoro la seconda quindi a due a due siccome abbiamo ricominciato facendo due maglie per ogni archetto vi troverete perfetti anche con le righe concludo il giro chiudendomi con un punto bassissimo nelle due catenelle con cui avevo riavviato il lavoro in modo da lasciare intatte le maglie a rilievo davanti quindi risalgo leggermente proprio con queste due catenelle e ricomincio sulle maglie a rilievo davanti lavoro le maglie a rilievo davanti una e due sulle maglie a rilievo dietro lavoro le maglie a rilievo dietro una e due ovviamente noterete subito che il polso si è ristretto parecchio rispetto a quella che era la dimensione del braccio ovviamente va bene perché il polso ovviamente piccolino quindi ci deve essere sempre un bel restringimento chiaro che se le due maglie lavorate negli archetti fossero troppo riduttive il polso vi viene troppo stretto potete fare qualche maglia in più quindi potete alternare in un archetto due punti in uno tre in questa maniera vi viene leggermente più più largo il polso poi comunque vi regolate in questa maniera e quindi procedo in questo modo avete visto sulle maglie a rilievo davanti si lavorano le maglie a rilievo davanti sulle maglie a rilievo dietro quella a rilievo dietro per un totale di cinque giri dopodiché anche il polsino sarà completato completate anche le due maniche quello che resta adesso è fare un giro di contorno per rifinire il collo che magari si vede poco visto che c'è un colore tono su tono però vedete quando abbiamo fatto le riduzioni si è formato una sorta di scalettina poca ma insomma non è bella da vedere quindi adesso andiamo a fare un giro di punto basso per fare il contorno qui del collo quindi rifinire quest'ultima zona dopodiché insomma il nostro progetto è completo e possiamo vederlo indossato quindi vado a rientrare in un punto lavoro un punto basso in questo modo vedete entro in un punto lavoro la maglia bassa entro in questo spazio lavoro di nuovo una maglia bassa vedete così già la forma diventa più lineare rispetto a quella vedete dove non abbiamo fatto il passaggio col punto basso e quindi si procede in questo modo dove avete il punto alto lavorate due maglie basse perché ovviamente il punto alto è costituito da due passaggi due volte estraiamo il filo quindi equivale ad avere due punti bassi in questo modo eseguendo i vostri punti bassi cosa farete farete praticamente tutto il contorno questo significa che adesso dal punto in cui ci troviamo proseguiamo sulla parte posteriore riscenderemo sul davanti ci andremo a chiudere qui possiamo fare uno o due giri a nostro piacimento basta uno quanto meno per rifinire e una volta eseguito anche questo passaggio il nostro capo è pronto e quindi ve lo faccio vedere indossato siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro video tutorial cosa abbiamo realizzato insieme beh una bellissima maglia da donna con la scollatura av me la stavate chiedendo da tanto finalmente l'abbiamo realizzata questa volta abbiamo lavorato a pannelli la prossima volta sempre per un maglioncino scolla v lavoreremo con la tecnica top down realizzato il primo pannello 48 per 56 ne ho realizzato subito dopo un altro con le stesse misure ma con questo piccolo dettaglio una scollatura v da 16 centimetri una profondità che vi permette uno scollo sia senza niente sotto sia eventualmente con l'ausilio di una camicia o di un altro accessorio di vostro gradimento realizzate due cuciture una sulla spalla e due lateralmente sul rovescio del lavoro abbiamo poi realizzato le maniche vi ho dato indicazioni anche per la profondità dello scalfo in base alle taglie infatti facendo la manica molto proporzionata al braccio non c'è stato bisogno di fare alcuna riduzione se non ai pulsi avete visto come con due pannelli da 48 andiamo ad ottenere una comoda circonferenza che appunto da 96 quindi la taglia che ho indosso in questo momento è una taglia m per la quale ho utilizzato 300 grammi di filato l'uncinetto di lavorazione numero 5 la sfumatura del filo è molto delicata e si enfatizza con questo punto di lavorazione che non è né troppo aperto né troppo chiuso la percentuale di rame del 50 per cento quindi la maglia vi risulta estremamente calda e confortevole detto questo spero di avervi dato tutte le indicazioni utili per poterla realizzare spero comunque che vi sia stato di spunto detto questo vi saluto vi ringrazio e vi rimando al prossimo video tutorial